Un gol pazzesco! Grazie Salvatore per aver raccolto il nostro invito, quest'oggi Orfani di Matteo Aldamonte in missione con la nazionale femminile impegnata domani contro l'Olanda in una gara amichevole di grande fascino, di indubbio richiamo. Basti pensare che l'Olanda è vice campione del mondo in carica e ha formulato proprio all'Italia un invito per disputare una gara amichevole. Ce ne occuperemo nella seconda parte della nostra trasmissione, apertura ovviamente dedicata al campionato maschile, in particolare al Girolecci. Vediamo subito questo servizio e poi ne discutiamo con il nostro ospite in studio. E' una settimana questa che la conversano della Palamano per quanto abituata a vincere non vivrà come le altre. Due squadre maschile e femminile al primo posto nei rispettivi campionati di A1 e se tra le donne stare ai vertici e attualità quasi abitudine in virtù dei successi delle ultime stagioni, per gli uomini è una novità da accogliere con entusiasmo. Plasmata da Alessandro Tarafino, uno che di Palamano se ne intende la formazione conversanese con il netto 33 a 23 in casa del Fondi nell'ultimo turno stagionale, ha superato i cugini della Junior a Fasano in vetta alla classifica del Girone C, chiudendo da prima della classe la prima tornata di gara della stagione regolare. La Puglia tutta comunque si conferma a terra fertile in questa disciplina, con Versano in testa, Fasano subito dietro, in terza posizione c'è anche Noci, aggrappata ai gol di Bobicic e della Zorino Notarangelo nel 22 a 21 rifilato all'Albatro Siracusa. Il terzo posto è a fare a due però un'altra grande piazza della Palamano italiana, si riscopre, tra le Big e Gaeta affidata alle mani di un altro reduce degli anni d'oro, Salvatore Onelli. Gaetano Doc è rientrato alla base dopo una finale di carriera nelle fila del Fondi, la sua mano è un roster rinnovato e rinforzato a dovere in estate. Hanno portato a tre vittorie prestigiose contro Valentino Ferrara a Noci e Siracusa nelle ultime quattro gare di campionato, non un caso anzi tutt'altro. E nella corsa al Girone Unico del prossimo anno c'è senza dubbio anche Gaeta. E chiediamo conferma proprio a Salvatore Onelli, c'è anche Gaeta nella corsa verso il Girone Unico che è un po' la meta, l'El Dorado della Palamano italiana, almeno al maschile? Sì, io penso di sì. Abbiamo iniziato un po' in sordina anche a causa di qualche assenza importante, ma come diceva Matteo nel servizio, nelle ultime cinque partite abbiamo vinto per quattro volte con una squadra quasi al completo e questo fa capire che comunque ci siamo. Chiaramente il Girone di ritorno sarà un po' più complicato perché andremo ad affrontare Siracusa e Noci fuori casa, poi adesso avremo il derby da due settimane, quindi non è detto che le posizioni rimangano queste. Derby che giocherete ovviamente fuori casa, no? Ovviamente in casa ma fuori casa, quindi non è detto che le posizioni rimangano quelle, io lo spero, faremo di tutto, siamo stati comunque agevolati anche un po' dal calendario. Ecco però mi pare che dopo un inizio abbastanza complicato, insomma molte novità, avete trovato il giusto assetto e questo lo si sta vedendo anche in casa. Sì, sì, è una squadra completamente nuova costruita quest'estate dal nostro direttore sportivo per Paolo Matarazzo che veramente ha messo a segno tre colpi importanti. Uno già c'era l'anno scorso che è Martino Amato, poi gli altri due italiani, Bono e Lombardi, a completare una squadra adesso veramente completa in tutti i reparti, perché abbiamo anche Antonio Filippo vince come straniero che calca i campi italiani da una vita, quindi con le ali siamo messi a posto, in porta abbiamo a Mendolaggi, insomma la squadra è abbastanza completa. Poi ripeto, a gennaio tutto può succedere. Poi c'è l'entusiasmo di un allenatore che è ritornato, come sottolineava Matteo, nella sua Gaeta e per questo credo sia doppiamente motivato. Sì, sì, sono motivatissimo, la cosa che più mi rammarica è non poter giocare a Gaeta, perché la maggior parte della popolazione gaetana segue i risultati nostri, ma non sa di cosa si parla, quindi quello mi dispiace. Senti, volendo invece centrare il nostro focus proprio sul girone C, che è il girone di tua competenza, sottolineava il seminzio di questa escalation del conversano, maschile, femminile, poi ne parleremo, ma ti sorprende il primo posto al termine del girone d'andata del conversano di Tarafino? All'inizio della stagione pensavamo tutti che potesse farcela, con l'infortunio di Balli e anche a tratti disperti forse sembrava più difficile la cosa, invece loro si sono uniti ancora di più, hanno fatto gruppo e Alessandro Tarafino è stato bravo a trovare comunque un'altra quadratura del cerchio e quindi si meritano assolutamente questo primo posto, hanno fatto una partita bellissima a Fasano, quindi ci sta tutto. Ecco, volendo in qualche modo spostare il nostro orizzonte proprio al termine della stagione regolare, in molti considerano il conversano rispetto a un'ipotetica griglia di partenza come il possibile terzo incomodo nella lotta ormai abituale tra Fasano e Bolzano, fermo le stagioni che poi bisognerà capire nel girone unico quali valori emergeranno. Tu sei convinto di questo? Cioè approvi questa linea di pensiero? Il conversano può essere realmente il terzo incomodo? Sì, sicuramente lo può essere. Attualmente è il secondo. Attualmente lo è, lo può essere. Ripeto, a gennaio qualcosa può cambiare perché si riapre il mercato e bisogna vedere anche che formazioni ci saranno. A volte a gennaio cambia tutto, anche se mancheranno solo quattro partite alla fine della regola al sismo, però sono quattro partite fondamentali, quindi bisogna vedere cosa succederà anche a gennaio. Allora, la Gioi può proporci la classifica al prossimo turno per inquadrare ancora meglio la situazione, nello specifico del Gaeta e in generale in questo girone che è sicuramente molto equilibrato. Come si diceva, commersano in testa, Fasano ad un'incollatura e poi ecco, Noci, Gaeta, consigliamo anche l'Albatro. Non vogliamo escludere completamente Ferrara e Fondi dalla lotta per l'accesso alla seconda fase. È una classifica che rispecchia i valori di questo campionato. Voglio togliere ovviamente il Gaeta, visto che sei parte in casa. I numeri sono quelli, quindi diciamo che il Fondi sta attraversando un periodo no e lo si vede dalla classifica. Chiaramente il Fondi può fare molto di meglio, quello sì, speriamo che non lo farà dalle prossime due settimane, però il Fondi può fare di più, il Valentino Ferrara anche qualcosina in più forse può fare. Però è anche vero che squadre come Noci, Siracusa, Fasano e Conversano sono difficili da battere. È un campionato molto duro e quindi tutto può succedere anche nella seconda fase. E vediamo, vediamo il prossimo turno, il prossimo turno del Girone C, del massimo campionato maschile. Un turno che promette scintille anche per la qualità dei confronti. In particolare per esempio il match di Benevento tra Valentino Ferrara e Siracusa è quasi uno spareggio. Gaeta che classifica la mano non dovrebbe avere particolari difficoltà ad affrontare e a vincere sul campo del fanarino di coda. E poi c'è questo Noci, Fasano, come dicevo in fase di presentazione, che è un debì davvero molto sentito e molto importante anche per la classifica. Sì, io credo che sia questa la partita di cartello, anche se Noci ha qualche problema. Approfitto per fare gli auguri a Ignazio De Giorgio che si è fatto male contro noi per una rotta quadrigione. Noci è sempre una squadra molto forte e rapida che contro le squadre un po' più pesanti e fisicamente un po' più grossi fanno un po' fatica contro il Noci. Certo farà fatica anche il Noci a contenere un maione tra la linea, quindi insomma è una partita complicata per entrambe le formazioni. E allora dal girone C ci trasferiamo al nord, girone A, vediamo subito il servizio. Il girone di andata chiuso sabato ha dato segnali inequivocabili. La corsa alla massima serie della prossima stagione interessa, interessa e come a molte delle interpreti protagoniste nell'attuale campionato di A1 maschile. Chi poi incarna nel proprio nome, nel proprio club storia e tradizione ha ancora voglia di essere. Tra le grandi d'Italia il caso di Trieste che sotto le mani di Giorgio Veglia è a tecnico che l'ha accompagnata nella storia recente. E' la prima inseguitrice di Bolzano, unica squadra a punteggio pieno tra le 28 della massima serie. La formazione Giuliana ha trovato, nonostante i tanti addi in estate, la quadratura di un cerchio disegnato alla perfezione dalla matita dei suoi uomini. Sabato è arrivata la sesta vittoria stagionale 28-25 sul difficilissimo campo del Merano, che invece resta indietro rispetto al gruppo di testa. Un gruppo dove resta aggrappata con unghie e denti pressano, Corsara pur faticando in casa della Piano. Cassano Magnago intanto cade per la terza volta consecutiva, Lombardi superati nettamente in casa del Bressanone che vince 31-24 e si porta a tre punti dal secondo posto. Il mistero si infittisce e il campionato si accende e la settimana prossima, in un duello infervorato tra storia e interessi di classifica, c'è neanche a dirlo Bressanone-Trieste. Cerca di lavorare il meglio possibile, poi se in squadra hai dei ragazzi eccezionali come i miei è tutto più facile, non è merito dell'allenatore, è solamente merito dei ragazzi e della voglia che hanno di allenarsi. Ci alleniamo con tutte le difficoltà però ogni giorno con grande intensità, questi sono i risultati, queste sono le soddisfazioni. Siamo stati bravi a tenere, a tenere era importante non andare sotto e poi da là abbiamo fatto, credo, un'ottima difesa, una difesa molto importante che ci ha permesso questo divario. In secondo tempo abbiamo gestito la partita con dell'individualità, ma penso che alla fine il Trieste ha fatto una bella gara, una bella palamano e penso che abbiamo meritato di vincere. E allora, il Blasone, la tradizione, è un carico in più, è un fardello in più per il Trieste di Oveglia o è un vantaggio perché incute rispetto e timore al prescindere poi dal valore individuale della persona? In entrambi le cose, sicuramente affrontare Trieste e soprattutto giocare a Trieste ha sempre un suo fascino particolare che incute, diciamo, tra virgolette, un certo tipo di timore. Trieste è una squadra che difende molto bene, chiaramente Oveglia era un grande difensore da giocatore quindi l'ha trasmesso sicuramente ai suoi ragazzi. Mi rivedo molto nelle parole che lui ha detto quando parla dell'impegno e quando hai un certo tipo di giocatore è tutto più facile, questo lo sto scoprendo anch'io. Bolzano chiaramente fa un campionato a parte, però mi sorprende Trieste e mi sorprende in negativo un pochettino il Bressanone perché pensavo riuscissi a fare qualcosa in più in questo periodo della stagione, però sicuramente si riprenderà. Trieste può essere sicuramente consegnato il team di Oveglia come la sorpresa del girone A che è storicamente poi forse il girone più combattuto o quantomeno più equilibrato. Se la regia ci propone rapidamente anche in questo caso classifica il prossimo turno, ricordando che Bolzano e Deppernano una partita meno in partita che peraltro si sta proprio giocando e quindi insomma ne daremo contezza domani attraverso il nostro sito federale FIGI Accout e che attraverso il live ticker. Bolzano è in testa, Trieste è al secondo posto, il Bressano che dopo un inizio abbastanza complicato sta venendo fuori nonostante abbia perso qualche pezzo da 90 rispetto alla scorsa stagione, però qui è evidente anche la mano di Branco Dunci. Sicuramente quando il Bressano all'inizio non riusciva a trovare la quadratura io non la davo per vinta insomma perché Branco è uno che lavora molto bene e riesce ad ottenere il massimo da quello che ha e lo sta facendo e lo sta dimostrando anche adesso. Mi pare che la progressione del Bressano sia davvero molto interessante. Scorrendo ancora la classifica che la regia prontamente ci ripropone, vediamo come ci sia veramente grande equilibrio. Insomma la lotta per il primo posto è probabilmente già chiusa perché il Bolzano viaggia a ritmi superiori ma per le altre posizioni bisognerà lottare fino alla fine, nessuno può sentirsi escluso dalla lotta, la lotta che poi porterà agli incroci per l'accesso al giro unico. Prossimo turno, Merano Molteno, poi c'è Bolzano Mezzocorona, Pressano Malo, Eppan Cassano Magnago e Brixen Trieste e questa è una partita di straordinaria tradizione perché si affrontano due tra le culle della palla a mano italiana ma è molto importante anche per gli equilibri di classifica perché ti aspetti di più da Bressano. Sicuramente, sicuramente Bressano è atteso a una prova di maturità adesso, questa è una partita che se vuole è una partita chiave per questo campionato, se non porta a casa questi due punti si mette male insomma. E allora lasciamo per il momento il massimo campiato maschile, solita classica parentesi con la Champions League al maschile e alla femminile, non c'è Matteo Aldamonte con il suo touch, non c'è fisicamente ma c'è la sua voce, vediamo. Consueto appuntamento con il meglio del weekend di Champions League maschile e femminile appena andato in archivio, un weekend che ci ha lasciato in eredità i primati di Vardar e Paris Saint Germain nelle finaliste dello scorso anno nei gironi A e B degli uomini e che alla femminile ha visto la competizione approdare la main round. E qui, oltre alle solite grandi, ci sarà anche una giocatrice italiana, la nostra Anika Niederwieser, qualificata alla secondo turno con il team tedesco del Turinger. Quelli che abbiamo scelto oggi per voi sono i migliori 5 gol della Champions maschile, mentre sulle donne abbiamo dato spazio stavolta alle protagoniste al contrario sul campo, i portieri, con le migliori 5 parate della settimana. E allora iniziamo con i migliori 5 gol di questa settimana alla posizione numero 5, una star di sempre di questa Champions League. Michel Guigou del Montpellier con questa penetrazione, cambio di direzione in palleggio per Guigou, gran gol, posizione numero 4. Abbiamo invece questa rete da pivot da parte di Christopher Michelensen, gol molto complicato, gran gesto tecnico, grande coordinazione per lui. Posizione numero 3 e arriva questa rete da parte di Jonas Kalman, sopra il muro, con l'aiuto del muro per il giocatore del Pik Zeged che vince di misura contro il Barça. Bella questa rete, questa conclusione di Daniel Dussebaev alla posizione numero 2, giocatore del Selye, della famiglia Dussebaev. Alla numero 1 però abbiamo questa rete da parte di Stojkovic, un gol incredibile di Ratzko Stojkovic in caduta con la mano dietro la schiena, un no look senza guardare. Gran gol per lui alla numero 1. E andiamo subito alle migliori 5 parate invece per quanto riguarda il versante femminile protagoniste. Naturalmente i portieri delle più forti squadre europee. Iniziamo anche qui dalla posizione numero 5, è una gran parata dai 6 metri su questa conclusione, grande intervento di Melinda Sikora del Cargo Ungaria. Grande intervento, la palla che poi resta lì, grande parata questa ma ancora più bella. Alla posizione numero 4 su un contropiede, sembra tutto già fatto, già segnato il destino invece. Ci pensa Tess Wester del BT Game con questo grande intervento dalla linea dei 6 metri. Grande carica poi per l'estremo difensore della squadra tedesca. Posizione numero 3, anche qui è una ripartenza, una seconda fase, un tiro dai 6 metri. Anche qui il destino del portiere sembra segnato invece Eva Kiss del Ghiere ci mette una pezza, ci mette in particolar modo una mano. Gran parata per lei per la posizione numero 3. Andiamo dritti, spediti alla numero 2. E rivediamo questa bella azione con la parata da parte di Salamaca, Valentina Salamaca. Grande intervento, si stende, porta la gamba quasi all'altezza della traversa. Anche questo è un grande intervento, tutti molto belli ma non quanto. Questa parata alla numero 1, un mix di reattività, di tecnica da parte di Jana Krauss. Guardate che intervento, rientrando dal cambio. Numero 1, meritatissima. E dunque, questo è lo spettacolo della Champions League al maschile e al femminile. Questo è lo spettacolo, il bello della pallamano. E questo è lo spettacolo che FIGIH vi propone settimanalmente attraverso Pallamano TV. C'è solo da apprezzare e da stupirsi, no? Sì, sì, sono gesti incredibili. Io poi sono pazzo di GhiGoo, quindi quando gli vedo fare quelle cose sono contentissimo. Allora, breve pausa, uno spot promozionale e poi rientriamo in studio. Smetti di sognare ad occhi aperti. A Natale, regala gli internazionali BNL d'Italia. Ed allora, di nuovo in studio, ora un focus sul settore femminile dell'appuntamento che attende domani la Nazionale Azzurra, impegnata da Eindhoven. Pensate, 4.500 biglietti già staccati per assistere alla gara tra le vice campionessi del mondo, dell'Olanda e l'Italia. Ne abbiamo parlato alla vigilia, prima della partenza per Eindhoven, con il commissario tecnico della Nazionale Azzurra, Riccardo Tribini. La grande novità è essere invitati da una rappresentativa così importante come l'Olanda, vice campione del mondo. Ci darà l'opportunità di giocare questa amichevole, un evento importante che vogliamo sfruttare. Prima di tutti perché dobbiamo vedere dall'altra parte una squadra che gioca molto bene, a mio modo di vedere una delle migliori palla a mano nel settore femminile. Seconda cosa, vedere a che punto siamo in questo nostro cammino di fronte a un pubblico numerosissimo, perché abbiamo saputo che già i 3.000 biglietti sono stati tutti venduti. Dicevate il percorso virtuoso di questa nazionale, quella olandese, che è arrivata ai vertici mondiali ormai, un percorso al quale perché no guardare con ambizione da Italia? Certo, bisogna guardare sempre ai migliori, anche se l'Olanda è un paese diverso, geograficamente parlando, dall'Italia. Ma loro hanno costruito questa squadra con un'accademia e poi una volta formate le giocatrici le ha mandate all'estero. Tant'è che oggi la nazionale olandese conta solo di una giocatrice che gioca nel campionato olandese. Ne hanno tratto il massimo da questa politica e sono arrivati quasi in cima al mondo. C'è da dire anche che hanno una generazione di fenomeni dal punto di vista fisico. A proposito di giocatrici, temi tattici legati alla nostra nazionale, intanto che Italia vedremo rispetto a quella che abbiamo visto nell'ultima uscita di qualificazione agli europei? Ma in questa settimana non avremo nessun stress di dimostrare niente, di nessun stress di risultato, per cui cercheremo un po' di progredire sul piano del gioco, rischiare qualcosa in più nel gioco in velocità. Anche se devo dire che per questa squadra femminile è ancora un po' presto parlare di un gioco in seconda fase o in rimessa veloce, perché c'è da costruire proprio una semplicità di gioco. Abbiamo nella prima uscita, preparandoci contro Polonia e Montenegro, cercato l'amalgama, cercato di risolvere i problemi gestionali interni alla squadra e poi abbiamo cominciato a dettare le basi, soprattutto per il gioco difensivo e di attacco. Dobbiamo semplificarlo e provarlo in questa settimana. È molto interessante che troveremo di fronte l'Olanda, che non dico che non vogliamo diventare come loro, però sicuramente imitare nella mentalità. Un'Olanda che gioca una difesa 6-0 molto compatta e chiusa e un grande gioco in velocità. Questo ci darà la dimostrazione di come si gioca a palla a mano nella femminile. Ebbene, un test importante stupisce soprattutto il dato delle presenze al palzetto dello sport di Eindhoven, 4.500. Mi ha detto, Trilini non aveva un dato aggiornato, 4.500 è incredibile. Sì, sono tantissimi, soprattutto per un amichevole come questo. Questo dà il senso proprio della cultura, l'amore per la palla a mano. L'amore per la palla a mano che però in Italia, noi ci auguriamo, possa crescere sempre di più. Focus sul campionato femminile dove Conversano ha spezzato il tandem di testa giudicandosi il big match con la Iomini Salerno. Vediamo il servizio. La Serie 1 femminile ha una nuova capolista e Conversano, sola in testa dopo l'ottava giornata di regular season. A segnare il divario è la vittoria delle pugliesi contro le campionese d'Italia della Iomini Salerno. Campane, ma in partita al pala San Giacomo, Conversano la vince con il cuore prima che con la testa. Metti poi la giornata di grazia di rotondo, sette reti e il 24-19 finale presto fatto. Conversano in vetta, Salerno invece rallenta la sua corsa e vede avvicinarsi Oderzo che di punti ora ne ha 12, due in meno delle campane grazie alla vittoria interna contro Cassano Magnago, 33-25. Decisive e pesantissime, le 12 reti di Arasai Duran, ancora migliore marcatrice della massima serie femminile. Il quarto posto è una questione a due ora perché a fare compagnia al Cassano Magnago c'è Dossobuono, ancora vincente e stavolta in trasferta in una gara ricca di gol contro Teramo, 33-30 al finale. Prima vittoria stagionale per la Leonessa Brescia che batte 25-24 il Flavioni in trasferta. Laziale incoda la gradatoria in una lotta di bassa classifica che chiama in causa anche la Riosto Ferrara. Sconfitta dalla Casa Grande Padana, 26-22, in un derby emiliano contraddistinto dai gol di Furlanetto e Dobreva, a segno rispettivamente 9 e 10 volte. Vince in casa l'Estenze, 26-18 contro il Brestanone al Palaboschetto. La prestazione in generale perfetta di Conversano stasera? Sì, sicuramente dalla Supercoppa che abbiamo giocato a settembre è passato molto del tempo, quindi noi abbiamo avuto molto tempo per organizzarci, siamo stati sfortunati in questa settimana che il nostro mister ci ha dato le dimissioni per problemi personali, però non è detto che se non metti anima, grinta e cuore non vinci le partite. Fin dall'inizio ci sono stati tantissimi errori che hanno condizionato la prima parte della gara, ovviamente quando sei due, tre, anche quattro gol sotto è un po' difficile risalire, soprattutto poi comunque loro erano in casa. Sicuramente niente compromesso perché ci sarà la gara di ritorno in casa, ci sono tante altre partite e credo che noi possiamo dimostrare di giocare molto meglio di quello che abbiamo fatto stasera e cercheremo di tutto per farlo. Campionato comunque che resta vincente, quello femminile, ma ritorniamo di nuovo al campionato maschile, focus puntato ora sul girone B, quello della sorpresa Oriago. Vediamo il servizio. Bologna, Oriago, Cingoli e Teramo, quattro squadre in due punti che diventano sei in tre punti se aggiungete al gruppo anche Cologna e sorpresa Modena. Il gruppo B della 1 maschile si conferma al termine del girone di andata pellicola, ancora tutta da scrivere dalla copione aperto e dalla trama, tutta da vivere. Sabato prossimo c'è il big match al vertice fra Oriago e Bologna in mezzo, c'è un solo punto dopo le partite di sabato. Il primato intanto torna ad essere solitaro perché Cingoli scivola sul campo di Teramo, un pala acqua viva gremito accompagna gli abruzzesi al 23-20 che garantisce un contatto costante col primo posto, contatto ancora più diretto per l'Oriago, sempre meno neopromossa e sempre più realtà del massimo campionato. 34-23 a Romagna, tutto facile, ma l'occhio per chiunque in questo momento ambisca la vetta e rivolto al Bologna, gli emiliani tornano a sorridere, cancellate le ultime due prestazioni opache, la squadra di tedesco ha saputo reagire in casa delle colonie senza storia, il 31-23 che chiude i giochi insomma. Scegliere la sfida della settimana, quella raccontata in diretta da Palamano TV è fin troppo semplice, stavolta Uriago e Bologna saranno avversare sabato prossimo alla prima del girone di ritorno. Al debutto di stagione fu pareggio 21-21, quell'equilibrio perdura ancora oggi e sabato, vuoi o non vuoi, i due punti in palio saranno pesantissimi. Era un periodo in cui non riuscivamo a fare punti, facevamo fatica, la squadra non girava e sicuramente questa vittoria, come hai detto tu, ci ha dato il primato in classifica, la vittoria fuori casa con l'Ogna che forse è una delle parti più importanti, non ha fatto altro che alzare l'umore e la settimana prossima ricominciare a lavorare con Steve per riuscire a chiudere questo campionato che è ancora molto equilibrato. Andiamo a Uriago dove in casa nostra abbiamo pareggiato all'ultimo secondo, andiamo là però sappiamo che possiamo andare in una mentalità molto diversa, perché dopo questa vittoria sicuramente tutti avremo più voglia. Intervista del collega Enrico Bonzanini, ti aspettavi l'Oriago? Inizialmente no, ma una volta visto come difende, a questo punto si merita la posizione che ha. Visto come difende, input preciso che lanciamo al tuo vecchio allenatore, Beppe Tedesco, allenatore del Bologna United che abbiamo in collegamento telefonico. Buonasera Beppe. Ben trovati a tutti, veramente ben trovati, l'unica cosa è un vecchio allenatore. Vecchio allenatore ma non vecchio come persona, ci mancherebbe. Beppe, mi fa piacere ascoltarti, carico, motivato, anche perché sei alla vigilia di una gara importante. Chi l'avrebbe mai detto che alla prima di ritorno avresti affrontato l'Oriago che insomma veleggia in vetta la classifica proprio in compagnia del tuo Bologna? Ma all'inizio del campionato probabilmente nessuno. Dopodiché però già alla prima di campionato hanno fatto vedere che erano decisi, ben ritosti, hanno infilato una serie di risultati impressionanti, che tengono un ritmo di più subiti molto basso e quindi come dice Salvatore con questa difesa e con questo ritmo che impongono le partite danno passi per tutti. Quindi è una sfida che a tuo avviso dovrà da parte del Bologna essere puntata molto sulla velocità, sulla aggressività, prima, seconda fase proprio per mettere in difficoltà il sistema difensivo dell'Oriago? Ma noi abbiamo bisogno di alzare un po' i risultati delle partite. È chiaro che questo sarà il nostro tentativo, a Bologna non ci siamo riusciti solo parzialmente nel contrasto della partita e loro però sono stati più bravi di noi alla fine, anzi abbiamo pareggiato noi, quindi il rimpianto magari è per loro della politica all'andata. Un aneddoto, Salvatore, cosa ti ha lasciato in dote Mago, maestro della palla a mano italiana come Beppe Tedesco? Beh, le preparazioni alle gare erano meticolose, quindi la preparazione alla gara sicuramente è stata una cosa che io mi sto portando ancora dietro grazie ai suoi insegnamenti, questo sì. E il ricordo di Salvatore Anelli per quanto ti riguarda, Beppe, come chiaramente di Salvatore Anelli per quanto riguarda invece l'atleta, l'ala? Ma guarda, due cose, prima un rimpianto perché nella prima selezione che ho fatto con lui l'ho lasciato a casa e questo è stato uno dei grandi errori che ho fatto, ma dopo mi sono subito ricreduto e lui mi ha fatto vivere un momento bellissimo, penso che lui si ricorda, della piazza centrale di Teramo quando abbiamo vinto con la nazionale Cadetti in Teramnia. È una gioia così bella da condividere che non scordano mai. Bene, grazie Beppe, grazie per il tuo contributo in bocca al lupo al prossimo match che insomma segnerà veramente il girone B del massimo campionato maschile, grazie a Salvatore Anelli per aver partecipato al nostro numero, continua a seguirci in bocca al lupo ovviamente al tuo Gaeta, noi abbiamo chiuso qui questo numero di Handball Mania, al prossimo appuntamento come sempre mercoledì nelle more, insomma continuate a contagiarvi perché la palla a mano è uno sport straordinario. Arrivederci. Un gol pazzesco!